buongiorno oggi è il 21 giugno 2021 siamo in italia a napoli per la precisione e come potete vedere dalla mitica finestra dalle tende colorate su uno c'è un bellissimo sole un bellissimo cielo azzurro e sono essenzialmente 31 gradi 6 c'è circa 88 Fahrenheit e oggi pensavo al fatto che è il compleanno di mio fratello mi dedicherò la mia tastiera maggiori informazioni guardate il link in descrizione perché altrimenti ho già iniziato questo video che riporta poi vi rimando anche al primo video in realtà io non ero presente però mi dedicherò la colonna suona del padrino il tema principale dell'immigrante di Nino Rota perché manco a farlo apposta il 19 giugno scorso il mio settembre scorso era l'anniversario di uscita del padrino a noi qui in italia quindi essendo oggi il compleanno di mio fratello avendo io questa sostanza particolare di dedicare e musica durante gli anniversari anche ai compleanni delle persone oggi la dedico a lui anche se scalerà forse di qualche ora se non di anche a domani perché appunto l'ho appena fatto qualche ora fa quindi sto finendo di montarlo poi pensavo anche al fatto che ieri abbiamo festeggiato il quarto anniversario della parte otto gotta light di Twin Peaks verità una grandissima parte otto cinema nel cinema come sappiamo perché ovviamente è grandissimo fan di è gran fan di David Lynch e poi pensavo anche al fatto che io praticamente so che in questi giorni Twin Peaks dovrebbe lasciare Netflix mi chiedevo se questo è connesso al fatto che possa essere sostituito da Wisteria record the night questo noto progetto che ormai va avanti avanti diciamo mi hanno avanti da misi queste voci su questo progetto sono progetti di David Lynch e poi e quindi sempre in virtù di questo qualcuno del mondo del buon denino possa fare un annuncio stavolta veramente vero è importante diciamo durante il mese prossimo quindi a luglio è detto questo dalla mitica finestra della tenda colorata ciao spero che passiate tutti una buona giornata